Le valli occitane. Cominciai a capire un fatto, e cioè che tutte le cose per un pesce di fiume vengono da monte. Insetti, rami, foglie, qualsiasi cosa. Per questo guarda verso l'alto, in attesa di ciò che deve arrivare. Se il punto in cui ti immergi in un fiume è il presente, pensai, allora il passato è l'acqua che ti ha superato, quella che va verso il basso e dove non c'è più niente per te, mentre il futuro è l'acqua che scende dall'alto, portando pericoli e sorprese. Il passato è a valle, il futuro a monte, dalle otto montagne di Paolo Cognetti. La piccola valle. Si raggiunge Valloriate risalendo uno stretto e ombroso vallone, segnato da un reticolo di corsi d'acqua che scendono veloci e limpidi tra due catene ininterrotte di monti. Grandi chiome di castagni nodosi e querce secolari ombreggiano il fiume, che scorre su un letto di enormi pietre, levigate come ossa di animali preistorici. Lungo la solitaria strada di fondo valle si allineano ordinatamente piccole case, abitate pochi giorni l'anno, dietro le cui finestre, quasi tutte sprangate, si intuiscono stanze, spoglie e letti gelati. È un comune molto piccolo, un centinaio di abitanti distribuiti sulla carta in 40 frazioni. Nel censimento del 1931 erano 20 volte tanti. Una bassa catena di montagne separa la piccola valle dalla ben ampia valle Stura, la più meridionale delle Alpi Cozzie, che porta al colle della Maddalena e da lì in Francia. Dalla cresta tagliente le estensioni urbane e le aree industriali di Borgo San Dalmazzo e Cuneo sono a portata di mano e appaiono lattiginose sotto il verde scuro dei monti. Seppur vicini alla pianura urbanizzata, sono posti selvaggi e bellissimi. Le vette del Tagliaré e della Beccas del Mezzodì, private della vegetazione da secoli di alpeggi, sono solari e slanciate, cucite da un filo di creste sottili che non superano mai i 2000 metri. La salita è veloce e dallassù, nei pomeriggi luminosi e freschi alla fine dell'estate, lo sguardo rivolto verso est raggiunge le Langhe e l'Appennino Ligure, illuminato dall'ultimo sole, in mezzo, come un mare calmo, l'immensa pianura della provincia grande di Cuneo, la più estesa di Piemonte e fra le più grandi in Italia. Ne fanno parte 247 comuni, dei quali 223 hanno meno di 5.000 abitanti e 21 meno di 100. Il più piccolo è Brigalta, un angolo di Piemonte stretto fra Francia e Liguria a 1300 metri di altezza, 40 abitanti in tutto, meno di 1 per chilometro quadrato, una densità di popolazione che in Europa occidentale si trova solo oltre il circolo polare artico. Scendendo verso il fondo valle, sui versanti ripidi, una rete di sentieri, di vecchie mulattiere e nuove strade forestali, si intreccia nei boschi di Faggi e connette una miriade di borgate dai nomi occitani, Gorré, Lognan, Chapuis, Diolaghet, oggi quasi tutte abbandonate. Cento anni fa in ognuna di queste case di pietra abitava una famiglia con gli animali e nei boschi, curati come giardini, ogni grande albero aveva un nome, ogni pietra segnava la fine e l'inizio di una proprietà. Camminare qui, a queste altitudini, oggi significa districarsi continuamente in un sottobosco esuberante e ricchissimo di diversità che ha ripreso il sopravvento sulle attività umane scivolate verso il basso e imbattersi qua e là in tentativi di una nuova colonizzazione. Un luogo sospeso nello spazio e nel tempo, oggi frequentato quasi solo da cacciatori e boscaioli e abitato da cittadini espulsi dai luoghi di origine, ma anche da pionieri in cerca di nuove opportunità. Continuando a scendere, incontro un giovane francese in un bosco pieno di rovine che emergono dal fogliame come tracce di una civiltà scomparsa. Si tratta di una decina di edifici in pietra che un tempo dovevano essere circondati da un'aia luminosa, animata dai giochi dei bambini e popolata di animali e campi ordinati, coltivati a cereali o canapa. Oggi la foresta che nasconde il sole ha sfondato i tetti, le radici hanno minato le strutture di pietra, i rampicanti hanno smossicato ogni finestra. Mark fa l'operaio in uno stabilimento del gruppo Peugeot Stellantis vicino a Lione, ma è anche impegnato in punta di piedi nella costruzione qui di un suo progetto di vita autonomo. Sta rimettendo in piedi alcuni edifici rurali diroccati, ripensandoli per nuove funzioni, ripristina sentieri abbandonati e ne traccia di nuovi. Intuta da fabbrica, con mani piccole, lavora veloce mentre mi racconta, senza alzare lo sguardo, che sta attrezzando un nuovo locale in un piccolo rudere accanto a quello appena più sistemato, che sarà la sua casa. Ci metterà dentro una lavatrice, anche se dovrà trasportarla con il mulo sul sentiero per i 300 metri che separano la sua casa dal parcheggio più vicino. Non risponde alla mia domanda sul perché ritenga necessario possedere una lavatrice qui. Difficile comprendere il suo progetto di vita e la sua idea di comodità. È un eretico, in una terra da sempre rifugio di eretici. Ma non è il solo. Più in basso, nella valle, dove dominano i castagni e le borgate sono state almeno in parte riadattate per farne seconde case, ce ne sono molti altri arrivati per mille motivi diversi. Mi indica la strada in discesa e mi metto in guardia dai cani antilupo che troverò nella borgata successiva. Da quando il grande carnivoro è tornato in questa zona delle Alpi, non più di una ventina di anni fa, questi grossi cani sono ovunque, ovunque ci siano animali al pascolo. Secondo la rete del progetto Life Wolf Alps EU, in tutte le Alpi, dalla Liguria alla Slovenia, nel 2018 si contavano circa 53 branchi attivi e una stima di individui di poco inferiore ai 300, organizzati in piccoli branchi familiari. Sono pochi, considerando che stiamo parlando di un'area popolata da decine di milioni di esseri umani e almeno altrettanti animali al pascolo. Questo non ha impedito che tornassero ad essere percepiti come una minaccia da parte della popolazione e che diventassero oggetto di un confronto politico avvelenato, che qui, come altrove, sembra incapace di affrontare i problemi reali dei cittadini e si alimenta solo di emergenze, reali o inventate che siano. E come l'orso delle Alpi orientali, anche il lupo sembra aver riacquistato una funzione di animale simbolo, un totem con un doppio volto, benevolo e malevolo, nel cui ritorno alcuni vedono le tracce di un equilibrio ritrovato, altri un pericolo per le attività economiche, la rivincita della natura selvaggia contro la quale hanno combattuto generazioni di montanari. Un tempo di lupi qui ce n'erano molti e per quanto rappresentassero effettivamente un pericolo mortale, di certo non sono stati loro che hanno sconfitto la civiltà contadina. C'è una storia, tra le tante raccolte in queste borgate dallo scrittore Nuto Revelli, che racconta di due fratelli che una sera, dopo aver litigato, vengono attaccati da un branco di lupi. Riescono a ingannarli e fuggire, ma solo dopo aver ritrovato solidarietà e fratellanza, lavorando insieme proprio come i lupi, imparando da loro. La rivoluzione occitana. A partire dagli anni settanta, una piccola rivoluzione culturale investe le valli cunesi, che, tagliate fuori dai traffici dell'economia moderna, sembravano destinate all'oblio. La popolazione prende coscienza che il dialetto parlato nelle borgate, disprezzato perché sinonimo di povertà e ignoranza, è diretto discendente della lingua diffusa fino all'evo moderno dalle Alpi occidentali ai Pirenei. È una lingua con una sua propria letteratura composta da poemi epici e amorosi, che contiene descrizioni vivide, immaginifiche del clima cortese dell'XI secolo e che conta anche traduzioni bibliche e poemetti morali diffusi in queste valli dai predicatori valdesi. Questa riscoperta diviene una grande risorsa per la vita collettiva, ma anche per la cultura, l'arte, la musica e anche l'economia. Ciò che fino a quel momento era stato causa di vergogna si trasforma in motivo di orgoglio. Nel 1999 una legge statale riconosce l'occitano come lingua e ne permette l'insegnamento nelle scuole e un suo uso limitato anche nella pubblica amministrazione. Tutto il patrimonio materiale e immateriale e vallivo viene rivalutato e l'area si apre a delle relazioni internazionali. Nello stesso anno nasce Espaci Occitani, un consorzio di enti pubblici con l'obiettivo di promuovere la lingua e la cultura occitana nel mondo. E poco dopo, a Dronero, si forma il primo polo di cultura occitana in Italia, con la fondazione dell'Istituto di Studi Occitani, di un museo e di uno sportello linguistico. In un'area quasi del tutto priva di impianti scistici cominciano a nascere nuovi affittacamere, camping, agriturismi, locande occitane, strutture ricettive di piccole dimensioni che rileggono le architetture tradizionali locali. Per un turismo di viaggiatori curiosi, appassionati di cultura e di trekking, principalmente stranieri e bedenstanti. Ma gli ultimi anni hanno mostrato che, oltre che profondamente ingiusto, non è conveniente dal punto di vista dei benefici per gli abitanti organizzare l'offerta turistica dei paesi intorno alla figura quasi archetipica dell'escaper. Il turista ricco, anaffettivo e fortunato che può permettersi di sottrarsi alla competizione della città e del lavoro e che non ha nulla da temere né dalle pandemie né dalle guerre né dal cambiamento climatico. C'è un bisogno diffuso di spazi aperti ed esiste una domanda popolare alla quale questo diritto può essere riconosciuto. Durante le stati della pandemia la riduzione del turismo straniero è stata compensata dall'aumento di quello nazionale, che ha imposto un ripensamento delle strategie di attrazione finora adottate. È un turismo diverso quello che si è affacciato per la prima volta in queste valli. Ha una minore capacità di spesa e una minore conoscenza del contesto di destinazione, anche perché le uniche guide turistiche moderne della Valle Maira sono in tedesco ed è composto da famiglie e da giovani. C'è stato un forte incremento delle formule autogestite di ospitalità, come quelle che si trovano sulla piattaforma Airbnb, e un crollo di richieste per i rifugi escursionistici, dove la promiscuità è stata percepita come pericolo. Mentre, come in tutte le aree interne del paese, subito dopo il Covid è cresciuto fragilmente anche il valore del mercato immobiliare, non solo per quanto riguarda le case, ma anche per terreni e capannoni. Tutto questo movimento però, fino ad oggi, non si è tradotto in un flusso di nuovi residenti capaci di stabilizzare la popolazione dell'area, che continua a diminuire, in particolare in quei comuni molto piccoli, 6 hanno meno di 100 abitanti, che si trovano oltre i 700 metri sul livello del mare. In totale, nei 18 comuni delle valli Maira e Grana vivono meno di 14.000 persone. Erano quasi 20.000 solo 30 anni fa. Non è per mancanza di lavoro che la gente abbandona queste aree, ma per la debolezza dei servizi pubblici e privati, per la lontananza degli ospedali, delle scuole, dei negozi. La strategia d'area, un'agenda per girare pagina. Per questa ragione, i circa 250 cittadini, amministratori, giovani imprenditori, insegnanti, medici che sono stati coinvolti nei tavoli di lavoro promossi dalla strategia nazionale per le aree interne, hanno redatto una proposta centrata soprattutto sull'offerta di servizi migliori alla popolazione. Non una somma di piccoli progetti, ma un'agenda di interventi di medio e lungo periodo, che sceglie quelli prioritari e prova ad incastrarli tra loro nella maniera più consona. Investire sul benessere della popolazione locale è il primo passo verso quel ritorno al futuro che auspica, nel titolo, la strategia d'area. Nuovi servizi a domicilio per gli anziani soli e dispersi sul territorio, per aiutarli ad alzarsi al mattino e a mettersi a letto la sera, per assisterli quando fanno il bagno, per consegnare loro la spesa e i farmaci, per accompagnarli alle visite mediche, ma anche per sostenerli nella cura della casa. Organizzare anche la loro socialità, con uscite sul territorio e giornate di svago. Attivare un sistema di trasporto pubblico a chiamata. Riorganizzare il sistema scolastico, attrarre nuovi insegnanti, cercare di trattenerli nell'area attraverso azioni che migliorino la loro qualità della vita, come ad esempio soluzioni abitative a canoni agevolati. La strategia contiene anche la proposta di costruire una scuola nuova nel comune di Prazzo, a metà della Valmaira. Una scuola ambiziosa, che accorpa dei plessi, ma punta anche ad attrarre studenti da Fondovalle, migliorando la qualità della didattica, delle strutture e dei servizi di trasporto e di mensa. Anche in questo caso si propone di utilizzare i finanziamenti che offre la strategia per rinforzare la salita a monte dei servizi, come già avvenuto a Monte Rossograna, nella valle accanto, dove in un edificio ad alta efficienza energetica, luminoso e accogliente, la comunità locale ha investito per arrestare la discesa della popolazione a Fondovalle e ha puntato tutto su un'offerta formativa di alta qualità, cucita intorno agli studenti. Durante il confinamento da Covid, la scuola è stata fra le prime in Italia a fornire a tutti gli alunni un tablet per la didattica a distanza, anche se da queste parti la possibilità di connessione alla rete è molto debole. Il piano banda ultralarga del governo, approvato nel 2015, è in ritardo di almeno un anno e mezzo, ma in tutta Italia, e sono almeno 8 milioni di abitanti di piccoli paesi che non hanno pressoché accesso alla rete. Elisa Ubezzi è maestra e vive a Canosio, un comune a 1300 metri nella Valmaira. Durante il lockdown, per fare lezioni a distanza agli studenti della primaria, doveva uscire sul balcone dove prende il telefono. Se c'è il sole, va bene, ma ci sono giorni in cui fa molto freddo, dice Elisa. Di certo in queste condizioni non si lavora sul programma, si cerca solo di far sentire la scuola vicino ai ragazzi, perché non spariscano. Dietro la costruzione di una nuova scuola c'è un processo di costruzione di fiducia, un approccio collaborativo alla soluzione dei problemi che è la chiave per la rinascita non solo dell'Italia vuota, ma dell'intero paese. La scuola di Monte Rosso Grana non solo ha arrestato il flusso da monte a valle degli studenti, ma lo ha invertito. Un terzo degli studenti vengono dalla pianura. È diventata un laboratorio per capire cosa sarà la scuola di domani, anche per le città. Un welfare sostenibile. L'idea contenuta nella strategia d'area, non nuova da queste parti, è quella di sostenere le spese di un nuovo welfare di valle, facendo leva sulla grande ricchezza di risorse naturali, a cominciare dalle acque. La comunità montana della Valle Maira gestisce due piccole centrali idroelettriche, attraverso una società per azioni di cui detiene la maggioranza e usa i proventi dell'energia prodotta per le strutture pubbliche e per ridurre i costi diretti dei comuni energetici degli edifici di valore sociale, come i rifugi, i ricoveri per anziani, un convitto per gli studenti della scuola secondaria di Stroppo, il centro sportivo di Rocca Bruna e lo stesso comune di Acceglio, dove si trovano le centrali. Con una delegazione del Comitato Nazionale per le aree interne, composta da politici, ricercatori, amministratori, tecnici e progettisti, andiamo a visitare la microcentrale che si trova più in alto, dove la strada si perde e muore e le valli strette si aprono sulle morene dell'ultima era glaciale, a grandi orizzonti. La centrale si trova alla base delle magnifiche guglie di quarzo della Torre Castello e della Rocca Provenzale, sulla quale, al primo mattino, con la parete in pieno sole, cerco col binocolo la via più logica e naturale di salita, pur sapendo che non avrò tempo di percorrerla e accontentandomi di respirare a pieni polmoni il vento minerale freddo che scende dalle cime. Pochi chilometri più in basso c'è la borgata di Chiappera, dove per un paio di giorni abbiamo discusso lungamente fra noi e con i cittadini dell'area sul lavoro da fare in valle, bevendo genepì, un liquore estratto dal fiore dell'Artemisia, in una lindissima locanda occitana, sotto soffitti bassi, dietro finestre piccolissime. Per venire a discutere di futuro in cima a queste montagne lontane, all'apparenza fuori dalla contemporaneità, bisogna amare la politica ma anche l'avventura e ciascuno di quelli che lavorano a questo progetto lo fa a modo suo. L'età dell'oro della civiltà alpina. La strategia dovrebbe permettere anche ai mezzi pubblici di arrivare fino al comune di Elva, a 1600 metri, 82 abitanti, in cima a un vallone laterale della Val Maira, percorso da una strada che è un capolavoro di ingegneria civile. Oltre 9 chilometri carrozzabile, 12 gallerie scavate nella pietra che tagliano in senso longitudinale una parete appoggiata, composta da enormi lastroni sovrapposti come una millefoglie. La strada è stata chiusa nel 2014 per motivi di sicurezza e mai più riaperta, isolando ancora di più il paese. Elva è veramente un borgo minuscolo, uno di quelli che qui si chiamano comuni polvere, ma oltre ad essere su un poggio pieno di sole, proprio di fronte alle creste merlate della Rocca della Meia, conserva nella chiesa parrocchiale una delle testimonianze più belle del periodo d'oro delle Alpi, gli affreschi realizzati tra la fine del 400 e gli inizi del 500 da Hans Klemmer, un pittore fiammingo che lavorò presso molte corti europee e che era in Italia in quegli anni al servizio dei Marchesi di Saluzzo. Nel 2022 Elva è stato scelto dalla regione come destinatario di un finanziamento da 20 milioni di euro volto a farne un attrattore culturale di rilevanza internazionale. Il rischio è che l'arrivo di questa grande quantità di denaro in un luogo così prezioso e fragile, che in qualche maniera è stato protetto anche dal suo isolamento, scateni ambizioni speculative facendo crescere i prezzi a dismisura, finendo per spazzare via quel poco che rimane del tessuto umano ed economico del paese, che, come quello di tutti i luoghi, non vive e non può vivere di solo turismo. Ci arrivo risalendo dalla Val Varaita, dove ho la fortuna di essere ospite per quasi una settimana nel pui di Ciampanesio, sopra San Peir, a casa di Maurizio De Matteis, giornalista e direttore di Dislivelli, una rivista che si occupa di temi sociali e ambientali legati ai territori alpini. Nella sua casa di Pietra leggo un articolo scritto da suo padre, il geografo Giuseppe De Matteis, che racconta della fine dell'età d'oro della civiltà alpina. La decadenza delle Alpi comincia all'inizio dell'età moderna, con la formazione di unità politiche sempre più forti, che eliminano gradualmente le autonomie locali, si appropriano delle risorse e in parte le distruggono, trasformando le Alpi in teatro di operazioni belliche. Con un potere politico che si allontana sempre di più, per fissarsi poi a Parigi, a Vienna, a Roma, a Berlino, l'area alpina viene così spartita secondo confini artificiosi, detti poi naturali, che, per seguire gli spartiacque a scopo militare, tagliano sovente in due regioni storico-culturali. Le comunità alpine vengono chiuse nel quadro dei bacini vallivi. Nel corso di tre secoli le popolazioni si riducono ad un'economia di sussistenza, che con le sue restrizioni impedisce ogni possibilità di sviluppo, cristallizzando l'organizzazione economico-sociale e la stessa cultura alpina nei generi di vita agropastorali che troppi scambiano per sopravvivenze preistoriche, ma sono in realtà frutto di una involuzione di una civiltà un tempo fiorente. Sappiamo che la fine dell'età dell'oro delle Alpi coincide anche con l'avvento di quella che i meteorologi oggi chiamano la piccola era glaciale, che tra il XV e XVIII secolo provocò, oltre a un calo delle temperature di oltre due gradi, il modificarsi delle correnti oceaniche e lo sconvolgimento del ciclo delle stagioni. L'espandersi dei ghiacciai e la progressiva chiusura dei passi alpini impose una riconversione drammatica dell'agricoltura e dell'economia delle montagne e le ricredute culturali, sociali, politiche di questo raffreddamento sono ben documentate in molti studi, sollecitati anche da una domanda estremamente attuale. Come si trasforma una società quando cambia il clima in cui vive? Mentre mi perdo in queste letture, fuori dal balconcino dello studio, nella borgata, i piccoli margari giocano alla guerra, lanciandosi palline di cicapui, il fiore colloso della bardana, che rimane attaccata ai maglioni e alle stringhe degli scarponi. Il sogno delle montagne. A Valoriate si tiene anche il Nuovi Mondi Festival, il più piccolo festival di cinema di montagna del mondo. Un titolo che suona come un piccolo manifesto mettendo insieme, con humorismo, l'orgoglio dei piccoli, il pragmatismo del cinema e l'ambizione della montagna. Nella prima serata del festival, Denis Urupko, uno dei più forti e istronici alpinisti dei nostri tempi, 70 kg di muscoli asciutti e tesi all'azione, racconta il suo tentativo di aprire una via nuova sul Gasper Brum II, il tredicesimo 8000 sulla catena del Karakorum, fra il Pakistan e la Cina, e di farlo, prima volta per un maestro delle solitarie, con la sua sorridente compagna spagnola, Pipi Cardel. Anche lei, alpinista, fotografa e videomaker. Il tentativo non riesce, perché durante la marcia di avvicinamento, Pipi comincia a soffrire di un forte mal di schiena e rimane bloccata per molti giorni al campo base. Denis decide di aspettare e nel frattempo, per tenersi allenato, di occuparsi di soccorrere le cordate in difficoltà sul gruppo, che in quella stagione è particolarmente difficile, dal punto di vista atmosferico, sono molte. In un italiano ostentato, ma energico e teatrale, racconta la sua passione per le alte cime, il suo alpinismo essenziale, sotto un'enorme tensostruttura gelata. Un pubblico numerosissimo, uomini e donne che di mestieri sono operai, autotrasportatori, guide alpine, artigiani, allevatori, maestri, il più delle volte tutte queste cose insieme. Tornato in una valle a cui in qualche forma appartiene, ma dove non dorme, si lascia guidare in silenzio lungo un percorso di vita che passa attraverso la formazione militare in Kazakistan, l'irruzione dell'amore nella lotta sovrumana con la montagna, lo sgomento di fronte alla possibilità della rinuncia, la scoperta della necessità, della dolcezza e della cura. Se esiste una corrispondenza fra i paesaggi interiori ed esteriori, è proprio qui, dove le valli strette si aprono in alto a grandezze stupefacenti, che una vita passata con lo sguardo rivolto a terra a lavorare può diventare capace di grandi aperture, essere concreta e visionaria allo stesso tempo. È qui, tra queste montagne, che i partigiani, nel momento più oscuro della guerra hanno pensato la Repubblica. Il racconto di Dennis evoca in qualche maniera quella fine dell'oggettivazione della montagna, che era stata praticata già tra gli anni 60 e 70 del secolo scorso dagli alpinisti dei nuovi mattini, un movimento che svincolava l'ascesa dal raggiungimento della vetta, per i quali la nuova arrampicata era la via di liberazione dei fardelli della tradizione e della conquista. Basta con quella lotta con l'Alpe utile come il lavoro, nobile come un'arte, bella come una fede, della frase di Guido Rei che ogni socio del club alpino italiano legge all'interno della tessera associativa. Non solo vette, croci, sacrifici, doveri, gerarchie, scrive Enrico Comanni, giornalista, alpinista e grande conoscitore delle Alpi. Ma viaggi in parete, giochi di roccia, bivacchi psichedelici, una relazione più intima, complice e rispettosa con la montagna. Enrico è stato uno dei promotori, nel 2021, in occasione del centenario del Parco Nazionale del Gran Paradiso, della proposta di rendere inviolabile per il 2022 la cima del Monveso di Forzo, una vetta minore del massiccio che tocca i 3.322 metri di quota. Nella proposta non c'è alcuna interdizione formale, ognuno rimane libero di fare la propria scelta. Una vetta da osservare riflettendo sulla nostra finitezza, contro l'idea del no limits che impera su tutto. Non è ovviamente il significato di montagna sacra buddista. La nostra è una visione che vuole promuovere la sacralità laica dei luoghi, una grotta, una collina, una radura, un bosco, non per forza una cima. Luoghi a cui riconosciamo un significato che va al di là della nostra voglia di consumarli. L'emancipazione dei luoghi. A Paralup, a pochi chilometri da Valloriate, nella borgata che è stata la base operativa di Italia Libera, banda partigiana tra le meglio organizzate, guidata dal carisma di Piero Calamandrei, la fondazione Nuto Revelli ha recuperato i vecchi edifici cadenti, trasformandoli in un rifugio accogliente. C'è un teatro che spazia sulla valle e un piccolo splendido museo dove è raccolta a parte delle testimonianze orali che sono andate a comporre il mondo dei vinti di Nuto Revelli, che raccontano le quattro vite della borgata, dalla civiltà contadina, la guerra e la resistenza, il tracollo demografico, fino ai tentativi attuali di ripopolamento. Racconta Beatrice Verri, la giovane appassionata direttrice della fondazione, che Revelli si rese ben presto conto dell'importanza delle donne in montagna e che dedicò anni alla ricerca su quello che ha chiamato l'anello forte e silente del territorio. I cinegiornali degli anni dell'emigrazione del dopoguerra raccontano come le donne fossero le prime ad andar via, alludendo al fatto che fossero in qualche maniera incapricciate dai consumi di città, dalla lavatrice innanzitutto. Dalle interviste raccolte da Revelli emerge invece come dura fosse la vita in queste borgate, dove la donna era considerata proprietà esclusiva dell'uomo e, come ogni altro animale, doveva produrre un figlio l'anno. Le donne in fuga furono rimpiazzate dalle calabrotte. Ragazze meridionali rimaste sole in paesi svuotati dai giovani che andavano a lavorare nelle fabbriche del nord, che venivano scambiate dai venditori di animali che viaggiavano per tutto il paese e portate nelle borgate alpine per sposarsi. Oggi, ci dice il centro di ecologia alpina, sono di nuovo le giovani donne le prime a emigrare e in buona parte dei paesi di montagna delle Alpi occidentali il numero di donne al 2011 non superava il 35% della popolazione in età fertile, a fronte di un dato nazionale che le vede in numero leggermente superiore a quello degli uomini. In queste condizioni è difficile immaginare una politica di ripopolamento di questi paesi che vada oltre le opportunità di sviluppo o di diritto codificato. Anche in questo caso l'Italia vuota è lo specchio di un paese dove il patriarcato non è solo un residuo di un passato destinato a sparire, ma una minaccia per il futuro. Scrive l'antropologa Anna Rizzo che lo spopolamento dell'Italia non è causato dalla denatalità, ma dal fatto che le donne scelgono di mettere se stesse al primo posto e ricavare spazi di autonomia per la propria crescita personale. Chi poteva se n'è andata per studiare, lavorare o allontanarsi dal paese? Chi non aveva strumenti economici, educativi, psichici è rimasta incassata in sistemi culturali, familiari, linguistici particolarmente retrogradi? Eppure è proprio in queste montagne ribelli e orgogliose, dove l'antifascismo come progetto politico si è trasformato in senso civico, che nasce l'alpinismo femminile, con l'ascensione nel 1864 della nobildonna torinese Alessandra Boarelli e di Cecilia Fillia, di soli 14 anni, al Monviso, che per un soffio non fu la prima ascensione in assoluto. Il Monviso è sempre a Enrico Camanni che dobbiamo la più bella descrizione del Monviso, il re indiscusso di quell'arco di montagne che va dalle Alpi Liguri alle Alpi Graie e domina l'Occitania orientale. È l'archetipo della montagna, una cima perfetta, una splendida piramide triangolare nata, come tutte le grandi cose, non per accumulo, ma per sottrazione di materiali geologici. Salendo il vallone del torrente Vallanta, qualcuno ha raccolto nel letto del fiume i sassi morenici che l'incessante movimento degli acciaio è trasformato in dischi quasi perfetti, di tutte le dimensioni, con i quali, ripetendo un rito ancestrale, ha fatto delle piccole sculture in equilibrio che emergono dal letto del fiume, come in un giardino giapponese. Nel 1989 la parte superiore del ghiacciaio superiore, college, precipitò a valle, lasciando praticamente spoglia di nevi perenni la piramide del Monviso. Quello che vediamo oggi a fondo valle e che raccontano questi sassi è l'esito di quanto successo in alto 15 anni fa. Gli effetti delle condizioni climatiche attuali, dice Mario Ravello, geologo e guida alpina, con estati calde e inverni poco nevosi, saranno visibili in valle solo tra una ventina d'anni. Oggi la compattezza dei colori rende la piramide del Monviso ancora più simile a quelle enorme lente di pietre verdi, serpentine, anfiboliti e ufotidi, che ci vide il geologo Federico Sacco cento anni fa e in qualche maniera ancora più grandiosa, più austera. Risalendo il facile sentiero che dal lago di Ponte Chianale in Val Varaita punta verso il rifugio Vallanta e il passo della Losetta a 2800 metri, si attraversano climi e tipi di vegetazione che si incontrano andando dal Mediterraneo al circolo polare. In un paese come l'Italia, che supera come numero di specie la flora di qualsiasi altra nazione europea, le valli occitane sono forse la parte con maggiore varietà interna di caratteri geomorfologici, climatici, ma anche storici e antropologici d'Europa. Un concentrato di biodiversità, un punto d'incontro per le specie più disparate, 2000 specie di piante superiori, un quarto dell'intera flora italiana. Durante le glaciazioni buona parte di queste montagne, così prossime al mare, sono rimaste sgombri da ghiacci, trasformandosi in rifugi salvifici per un gran numero di esseri viventi, di cui oggi altrimenti non rimarrebbe traccia. Sul ponte del diavolo. Filmiamo un'intervista a Roberto Colombero, allevatore, ex sindaco di Canosio, animatore della strategia, presidente dell'Unione delle comunità montane piemontesi, Uncem, sul ponte del diavolo a Dronero, che come San Dalmazzo, Caraglio e Saluzzo, è uno di quei grossi comuni agricoli di pianura e che hanno sempre vissuto dell'intenso movimento economico verso le valli e la Francia. Il ponte è un'opera imponente della fine del Quattrocento. Ha tre arcate irregolari merlate, la più alta delle quali si stacca di varie decine di metri dal fondo del torrente Maira, le cui piene, già dal Medioevo, l'avevano più volte abbattuto. Per riuscire a dare al ponte una solidità di pietra gotica, capace di resistere alla furia delle acque, ci fu bisogno di ingannare il diavolo in persona. Il grande regista tedesco Werner Herzog dice, nel suo libro intervista Incontri alla fine del mondo, conversazioni tra cinema e vita, che per raccontare un luogo distingue e dà voce alternativamente a quelli che chiama bardi e sciamani. I bardi sono i testimoni che agiscono i luoghi, gli sciamani quelli che li sanno interpretare. Ecco, Roberto Colombero, per quanto giovane, asciutto, energico, positivo, con la concretezza di un sognatore di montagna, oggi è uno sciamano scoraggiato. Con la costruzione della strategia, per una volta abbiamo avuto la possibilità di ragionare a lunga cittata su un'inversione di tendenza dei flussi che trascinano tutto a valle, di contrastare la marea che si ritrae. Abbiamo avuto come amministratori la possibilità di andare oltre l'emergenza, lo straordinario, un'esperienza entusiasmante per come si è proposta, ma che si è trascinata dietro una scia di delusione. Secondo il presidente dell'UNCE in Piemonte, investire in aree interne significa fare un salto di paradigma e in giro non c'è ancora consapevolezza di quale sia il valore reale di questa Italia vuota. Siamo il cuore pulsante del paese e del continente, non siamo marginali per niente, non siamo considerati per quello che valiamo. Tutta la comunità si deve fare portatrice di un progetto politico, autonomo, non difensivo ma consapevole della propria centralità che merita maggiore rispetto umano e politico. Se l'economia porta a valle i servizi per concentrare le persone proviamo a immaginare di riportare a monte i servizi, più a monte mantenendoli con la nostra ricchezza di risorse. Cominciamo dalle valli più alte e via via scendiamo, continua Roberto, dove mancano le forze sociali e le imprese rappresentative della società ci deve essere il pubblico come strumento di sviluppo del territorio che riesca a interrogare il privato che abbia una visione economica comunitaria. Il ponte è quasi nel punto esatto nel quale le pietre si sbriciolano in sabbia e la montagna diventa pianura. Roberto, parlando, la indica con un gesto distratto, depressa nella calura di un primo pomeriggio estivo. Si ritiene più montanaro che piemontese. Sua madre è di Termini Merese, vicino Palermo, arrivata a Cuneo che aveva pochi mesi. Un'estate, venendo in vacanza in valle, ha conosciuto il padre che aveva le vacche alla Malga. Si sono rincontrati qualche anno dopo in discoteca a Cuneo. La forza di queste aree è la forza delle persone che ci lavorano, continua Roberto, che fanno le cose insieme e ci mettono braccia, cuore e testa. Ci serve una politica che ci permetta di lavorare, di sognare, di avere fiducia, di costruire relazioni, di comprendere che i nostri problemi non sono solo nostri. D'altra parte il sogno si scontra con un sistema pubblico totalmente bloccato, che non riesce a coordinarsi. La scuola di prazzo, per quanto immaginata, progettata, finanziata, non si farà almeno per il momento. Insomma, anche quando si prende una decisione condivisa e si riesce a tradurla in un progetto all'interno dell'amministrazione pubblica del nostro paese, sembra mancare chi si prenda la briga o sia in grado di mettere in moto la macchina. La regione è stata distratta, ha perso tempo nel richiedere i fondi e nel frattempo il nuovo sindaco ci ha ripensato, sperando di poter stornare i finanziamenti per la scuola a beneficio degli elettori anziani di un paese senza bambini. E non è solo un problema di burocrazia, aggiunge Roberto. Non abbiamo strumenti istituzionali idonei. Il livello locale è troppo frammentato, i comuni troppo piccoli. Difficile confrontarsi con 30 abitanti anziani che hanno comunque una qualche forma di rendita e rappresentano oltre il 50% dell'elettorato, che possono decidere se fare una scuola di cui beneficerebbero tutti i bambini della valle oppure pensare alla propria aia, mandando a monte il lavoro di anni. La DREC e l'UBAC Giovanni Carrosio, che insegna Sociologia dell'Ambiente all'Università di Trieste, con il quale abbiamo lavorato per due anni alla costruzione della strategia, non solo nelle valli piemontesi, sostiene che quello che abbiamo incontrato sui territori è un mondo nuovo che cerca nuove istituzioni. Il tema dello sviluppo sociale ed economico delle aree poco popolate del nostro paese è fortemente intrecciato a quello della trasformazione delle strutture decisionali, economiche e sociali del paese. Il modello democratico rappresentativo tradizionale, fondato sul peso elettorale dei territori, ora rafforzato dalla riduzione dei parlamentari, contribuisce a marginalizzare nel mondo della politica e nell'attenzione pubblica l'Italia vuota e anche la tanto invocata governance che prevede la partecipazione degli interessi organizzati in queste zone si riduce ad attività di lobbying di poteri per lo più lontani o, come nel caso della scuola di prazzo, in un vero e proprio non governo. È tempo, secondo Giovanni, anche per lo Stato di fare i conti con le nuove forme sempre più diffuse di attivismo delle istituzioni locali e dei cittadini alle quali troppo spesso si risponde con forme di paternalismo umiliante o addirittura con l'esercizio della forza, come succede in Val di Susa, solo poco più a nord, contro i movimenti che si oppongono alla linea dell'alta velocità Torino-Lione. Insieme a Giovanni, con i nostri figli più piccoli, siamo venuti a partecipare insieme a tutta la famiglia di Roberto, con fratelli, fidanzate, amici, alla demonticazione delle vacche della Malga, che dovranno passare l'inverno in pianura nella valle di Salusso. Due giorni di festa nei quali abbiamo corso ridendo sotto la pioggia, spingendo le 250 vacche bianche dalla Malga lungo la strada fin dove la valle si allarga abbastanza da permettere ai grandi camion per il trasporto di caricarle, che arrivano pieni di luci e colorati come un circo. La sera, nell'Aie, abbiamo inventato storie con i bambini sulla discussione infinita che impegna lo spirito della Drek, il lato al sole di queste valli, dove si alternano le borgate, i pascoli, i coltivi, e quello del Lubac, esposto a nord e per gran parte dell'anno in ombra, selvaggio e ricoperto di boschi. Una disputa che, sin dall'inizio dei tempi, li vede litigare su chi sia il migliore fra loro.